ricezione di gennari che poi va a tutto braccio ancora la difesa di bau short ma la manda di là il palleggio che prevedo arriva il punto l'attacco con la mancina di orman e prima il punto il palleggio e adesso l'attacco con la mano sinistra ripetiamo se segna anche così si fa davvero dura per tutte la ricezione di orfan anco che bank pare dalla tedesca sul profondo protagonista più che mai 23 21 grazie